salve ragazzi benvenuti nel canale alienology io sono ali e quest'oggi sono qui per il classico video acquisti fumetti on the road di fine mese fine febbraio oggi siamo al 27 febbraio 2021 piatto ricco quest'oggi come in quattro fumetti Dylan Dog numero 414 giochi innocenti Samuel Stern numero 16 il processo Stern ho preso la versione normale senza variant quindi quella classica paperino numero 489 e manuale delle giovani marmotte numero 11 con il paper dollaro per cui ben quattro acquisti ricapitoliamo manuale delle giovani marmotte numero 11 paperino numero 489 Samuel Stern numero 16 il processo Stern Dylan Dog numero 414 giochi innocenti arriveranno le video recensioni video opinioni di tutte e quattro le testate a cominciare da oggi con la recensione Dylan Dog poi Samuel Stern paperino e il manuale delle giovani marmotte con questo ordine grazie a tutti i ragazzi grazie veramente di cuore a tutta la gente che mi segue tutta la gente che mi supporta la gente che nel gruppo telegram la gente che si sta iscrivendo che si iscriverà insomma grazie a tutti buon sabato a tutti buon fine mese e ragazzi sempre viva i fumetti e viva la lettura ciao ragazzi grazie a tutti